19.30 puntuali, ben ritrovati al consueto appuntamento con il nostro telegiornale della sera targato Canale 8. Si è da pochissimo concluso il consiglio dei ministri rispetto a quelle che sono le misure per contrastare la quarta ondata da Covid-19. Tante le disposizioni dure anche in campo obbligo del Green Pass per quanto riguarda i vaccinati e i guariti e invece di contro abbiamo delle disposizioni assai restrittive nei confronti dei Novax. Ascoltiamo i dettagli in copertina poi di nuovo insieme. Ancora insieme io con la coda dell'occhio lo vedo abbastanza rilassato perché si è appena acceso una sigaretta. Sto parlando di Bobo Craxi in collegamento diretto con noi, con Canale 8, con il nostro TG. No, può anche tenerla se vuole, può anche tenerla. Non so se questo servizio di copertina l'ha rilassato. Intanto buonasera. Buonasera, grazie per l'invito, grazie a voi. Grazie a lei. Sulle scuole sono arrivate altre 120 segnalazioni di contagiati all'interno della scuola primaria e secondaria. Si aggiungono ad altri 400 una nota assai drammatica. La prima parte del nostro telegiornale termina qui. Noi ci rivediamo tra pochi minuti.